Questa volta è scontro frontale tra la cooperativa gialla che gestisce i quattro asili nido comunali di Brindisi e le organizzazioni sindacali. I lavoratori infatti non hanno ricevuto né lo stipendio di dicembre né le tredicesime, un fatto gravissimo soprattutto se si considera che la stazione appaltante, cioè il comune di Brindisi, pare sia in regola con i pagamenti e quindi non ci sono giustificazioni per un ritardo così grave, specialmente per le tante famiglie a monoreddito in un periodo come quello natalizio. Ma i sindacati vanno oltre e denunciano il fatto che è inammissibile che i pochi dipendenti che hanno accettato di diventare soci della stessa cooperativa sono stati retribuiti regolarmente mentre tutti gli altri sono rimasti a bocca asciutta. Da qui la decisione di proseguire lo stato di agitazione e di proclamare una giornata di sciopero per il prossimo 12 gennaio. Sì, anche oggi la terza giornata di protesta dei lavoratori dell'asile di Brindisi, una giornata questa volta diversa perché l'azione di protesta non sarà fatta sotto gli asili ma bensì andremo direttamente sotto la sede del consorzio presso l'assessorato dei servizi sociali di Brindisi. Un'azione di protesta all'ennesima per il mancato pagamento degli stipendi al 20 e quindi anche dalla tredicesima presumiamo al 31. Una situazione che sta veramente diventando drammatica per decine e decine di lavoratori che probabilmente anche il capodanno non riceveranno gli stipendi. Una situazione che si è determinata a sentire di la cooperativa da una carenza di fondi, mancato pagamento di fatture evidentemente, a noi non corrisponde perché sembrerebbe che il comune abbia pagato comunque la quota aspettante. Fatto sta che i lavoratori anche questa volta faranno un capodanno evidentemente amaro. Noi non ci fermiamo qui quindi abbiamo indetto per il giorno 12 una giornata di sciopero e quindi in questa clausa del freddamento vedremo un attimino di sentire anche il prefetto su questa avvertenza meglio dire che vede protagonisti da un lavato di lavoratori e dall'altra la cooperativa gialla.